San Francesco non è solo il poverello di Assisi che tutti conosciamo, il Santo Patrono d'Italia o l'amante di Madonna Povertà. È anche un importante punto per cominciare delle importanti riflessioni. Il suo messaggio infatti può portare a degli approfondimenti sui cambiamenti economici nella teoria e nella pratica. Può sembrare un paradosso in effetti. San Francesco che uniamo all'idea della povertà, che ci aiuta a fare una riflessione sull'economia. Eppure non dobbiamo dimenticare che la povertà di Francesco, radicale quanto si vuole, è quella scelta. Non è quella subita perché c'è un'ingiustizia strutturale nel mondo economico, nel mondo sociale. Quindi si capisce come mai San Francesco e i francescani, quando nel 200 si è sviluppata la cultura cittadina, commerciale, legata alle banche e al denaro, si sono posti il problema di affrontare quelle che venivano chiamate le cose nuove e di dare delle risposte, risposte anche in termini molto concreti per poter permettere alle persone di diminuire il tasso di ingiustizia e di condividere al meglio i beni. E da qui sono nate riflessioni teoriche, grandi studiosi d'economia che provengono dal mondo francescano e anche delle istituzioni importanti, dai monti di pietà a dei sistemi bancari che nascono in questo ambiente. Ad esempio, l'immagine che adesso stiamo per vedere sul monitor, la Casana dei Genovesi, fa riferimento a una di queste istituzioni proprio immaginate dai francescani a conforto e a sostegno dell'economia e della vita di queste popolazioni. Quindi hanno studiato in un periodo in cui l'economia si basa molto sul denaro, sullo scambio e crea anche una particolare tendenza all'idea dell'arricchimento come valore, così come possiamo vedere ad esempio in questo famoso quadro in cui viene adeguatamente rappresentata l'idea di una sorta di cupidigia verso la fisicità delle monete, della materia della moneta, viene in questo modo ripresentata una diversa concezione di economia che nasce da uno studio che verrà poi riproposto nel tema dell'etica civile, che se vogliamo giunge fino ai nostri giorni. Possiamo vedere ad esempio un articolo comparso su un giornale, non di orientamento francescano mi pare, ma il sole 24 ore che fa riferimento chiaramente al mondo dell'industria in cui ci si pone a livello di banca la questione del rapporto proprio tra etica e finanza alla luce anche ad esempio della tradizione religiosa perché si parte proprio da un salmo, il salmo 145, che dice cesserà l'orgia dei dissoluti e in qualche misura credo che noi in questi anni di crisi della finanza creativa siamo ben di fronte a questo aspetto. E quindi il primo messaggio che possiamo ottenere dall'esempio di vita di Francesco è il significato morale e civile dello studio ma anche della scienza. La crisi che quindi stiamo vivendo ogni giorno con maggiore forza ci sta dicendo che dovremmo quindi trattare l'economia e la finanza non come una sola dimensione, come un motivo di solo profitto a breve periodo. Diciamo che quello che la finanza sta producendo è solo disastri e disumanesimo di cui ad esempio Cipro è l'ennesimo segnale. Quello di cui gli stessi economisti in realtà ci stanno, alcuni almeno di loro i più attenti, ci stanno avvertendo è che il problema della finanza e dei disastri che l'idea di una totale libertà e creatività della finanza ha portato è legato al fatto che, contrariamente a quanto è accaduto con il movimento francescano, non ci sono sostanzialmente luoghi di ricerca anche accademica che si pongano in maniera adeguata il problema di fare appunto ricerca per capire quali metodologie, quali strumenti potrebbero essere utili invece per uscire dalla crisi senza continuamente ricadere nei vecchi modi di pensare. E noi vorremmo citare in questa occasione un economista italiano di grande importanza, Luigi Bruno Bruni, al quale dobbiamo proprio lo spunto di queste nostre riflessioni, cioè il fatto che manchi, contrariamente a quanto è accaduto nel 200, una adeguata riflessione, un adeguato studio sull'economia civile, un termine ad esempio che fa riferimento a un grande economista italiano del 700, genovesi, di cui nel 2013 ricorre il centenario e che però non è adeguatamente conosciuto. E vorrei proprio in questa occasione fare riferimento anche ad alcuni testi di Luigi Bruno Bruni e del suo lavoro proprio di ricerca su questa tematica, ad esempio vediamo qui la leggerezza del ferro che è chiaramente un paradosso, cioè come le economie e le organizzazioni con un movente ideale non sono in contraposizione, si possa fare economia solidale in una serie di aspetti concreti, reali, economia a servizio della persona, il dono, le sue ambivalenze, i suoi paradossi, parleremo oggi del dono, parleremo di questa tematica, così come pure di quella che è chiamata economia di comunione, una realtà che si è sviluppata in numerosi paesi del mondo, a partire dal Brasile e che può essere veramente di grande interesse perché quella meno toccata dalla crisi finanziaria che ha colpito praticamente il mondo negli ultimi anni. Quello che dunque sarebbe necessario fare, seguendo l'insegnamento di Francesco e dei francescani, è sostanzialmente poter contestualizzare meglio i problemi finanziari ed economici e quindi trovare anche università ed istituti di ricerca che possano studiare diversamente quello che per ora è una materia che rimane solo nei templi del sapere e non arriva veramente a risolvere il problema della crisi nella società del nostro tempo. Per questo servirebbero idee nuove, appunto contestualizzate nel momento di crisi che noi stiamo vivendo. Di fatto noi veniamo da anni ispirati sostanzialmente dal liberismo radicale della signora Thatcher recentemente scomparsa e del presidente americano Reagan, nei quali l'idea fondamentale era che la società non esiste, frase letterale pronunciata dalla signora Thatcher e che in fondo esiste soltanto l'individuo e il suo desiderio di arricchimento. Quindi potremmo dire un'economia incivile dove il termine non è un'offesa ma si contrappone proprio a quella di civile, un'economia che non tiene conto della città, della civitas, della polis, così come è nata in Grecia, come vediamo in questo momento nell'acropoli di Atene e sappiamo come proprio la Grecia paradossalmente sia il luogo, la nazione dove in maniera drammatica si manifesta questa incapacità di gestione della economia a fini democratici. Ecco, a questa economia che potremmo chiamare incivile si contrappone sempre di più invece un'economia civile che sta lavorando per cercare esperienze sia teoriche sia dal punto di vista della riflessione culturale che possano offrire un'alternativa. E a proposito quindi della necessità di un'inversione di rotta nel nostro rapporto con l'economia e quindi sostanzialmente con i soldi stessi abbiamo degli esempi molto significativi di persone che singolarmente o riuniti in associazioni e gruppi si sono quindi battute perché fosse possibile vivere anche senza denaro, sostanzialmente vivere gratis. Un esempio importante è quello di Heidmarie Schwermer, una tedesca che da circa 15 anni vive barattando gli oggetti ma soprattutto cercando di offrire in cambio di oggetti o di case, quindi alloggi, le proprie abilità, ciò che si sa fare e quindi sostanzialmente sostituire a un valore che è il prezzo, quello di un valore non più di mercato ma un valore di abilità, qualcosa che si è capaci di fare. Dunque appunto l'esempio di Heidmarie è stato trascinante e alcune associazioni anche online hanno ripreso proprio questa sua iniziativa. Ad esempio possiamo citare il sito Eticambio che permette quindi di scambiare oggetti online oppure le associazioni di Pesaro, Zero Relativo, che organizzano mercatini e anche appunto aste online per cose usate o anche a Torino abbiamo l'associazione Manà Manà. Quindi quello che è importante è la sfida che questi gruppi si propongono, quello appunto, come dicevo, di sostituire al valore di mercato un valore di vita, delle azioni che si possono portare avanti e assieme a queste azioni portare avanti anche delle relazioni con gli altri individui. Sostanzialmente il punto è quello di ricostruire il valore dell'economia. L'economia ha un ruolo importante, siamo esseri che hanno bisogno di beni, beni anche fisici, anche materiali, il cibo, il calore, il vestito, la protezione e tutta una serie di beni attraverso i quali manifestiamo la nostra vita. Eppure dobbiamo ricordare che il lavoro produce benessere, non altro denaro. Il denaro deve produrre benessere, non altro denaro. Quindi si tratta di un aspetto fondamentale che viene dimenticato nella fase appunto che abbiamo chiamato della finanza creativa. E questo pone una questione di primo interesse sull'aspetto del dono. Un dono, un termine, una parola che a volte viene equivocata. Noi a volte immaginiamo che ricevere un dono, per motivi anche di buon gusto sociale, ci obblighi anche a ricambiare questo dono. Questo è un aspetto sicuramente reale, anche importante, se volete, di gratitudine, a volte un po' meno, cioè più che altro di obbligo sociale. Ma è un termine abbastanza riduttivo, perché il termine dono fa riferimento a un'altra cosa, perché altrimenti è un baratto. Se io semplicemente, in maniera automatica, immagino di restituire a chi mi fa un dono un altro dono, dovrei usare proprio il termine baratto e non quello di dono. Dono vuol dire fare qualche cosa a un altro e quest'altro che la riceve può essere spinto a fare un dono a sua volta, ma non a chi ha dato il dono per la prima volta, a un terzo. Ha un terzo e questo ha un altro ancora. Cioè si tratta di gesti che sono capaci poi di generare una catena di conseguenze potenzialmente illimitata. È la grande logica della vita, è quella che porta il genitore a dare la vita al proprio figlio, ma questo non perché poi il figlio possa e debba ridare la vita al genitore, può essergli certamente vicino, onorarlo, come dice la Bibbia, ma il punto fondamentale è che il genitore genera la vita perché questa vita generata a sua volta sia in grado di generare altra vita. Questa è la logica del dono, che è diversa da quella del baratto. Ecco, non si tratta di questioni secondarie, si tratta di questioni che implicano la nostra stessa qualità della vita e sulla quale naturalmente è importante sia l'esperienza, sia però, come diceva Luigino Bruni, la capacità di fare ricerca culturale, accademica, su questi temi che sono temi fondamentali per evitare poi di cadere nella banalità del pensiero dominante anche da un punto di vista economico. E vi ringraziamo per la vostra attenzione anche questa settimana. Grazie, al prossimo appuntamento.